A traverse ancora zone minate e controllate dai Khmer rossi la strada che da Battambang porta alla frontiera con la Thailandia. Ed è su questa strada che si trova il piccolo ospedale di Mongol Borai. La tragedia cambogiana si porta dietro un capitolo tuttora aperto, quello delle mine disseminate sul territorio dalle varie fazioni in decenni di guerra che continuano a uccidere e a mutilare. Se un cambogiano su 236 è vittima di questi ordigni, nel distretto di Ratanak Mondol, verso la frontiera tailandese, la media sale a 1 su 90. Un dramma che ha lasciato in Cambogia 35.000 invalidi e che ogni mese fa più di 200 nuove vittime. L'ospedale di Mongol Borai, costruito dalla Croce Rossa internazionale e ora gestito da personale e da chirurghi cambogiani, fa quello che può per intervenire nelle emergenze quotidiane. Situato in una zona calda del paese, ospita anche giovani militari vittime di mine negli scontri con i Khmer rossi, ancora molto attivi nella zona. Sono calcolati tra gli 8 e i 10 milioni gli ordigni anti-uomo presenti sull'intero territorio cambogiano che attendono per esplodere il passo di un uomo. È soprattutto tra la popolazione contadina che le mine mietono le loro vittime, gente che per vivere deve muoversi sulla terra e ha ben poche possibilità di sfuggire a un destino crudele. È questo l'ultimo terribile atto dell'interminabile odissea di un intero paese. Io sono un militare dell'esercito cambogiano. Eravamo in un'operazione militare contro i Khmer rossi. Siamo finiti in un campo minato e sono saltato in aria. I miei compagni mi hanno portato qui. È successo una ventina di giorni fa. Sono fortunato perché ho perso solo una gamba. Ho 29 anni e per il futuro non so cosa pensare. Dovrò dipendere dalla mia famiglia che è molto povera. di campi minati in Cambogia ne sono stati localizzati fino ad ora 2300 e due organismi internazionali, il Mine Advisory Center e il SIMAC, Cambodian Mine Action Center, hanno iniziato da un paio d'anni un'opera di bonifica. Qualcuno ha calcolato che ci vorrebbero decine e decine di anni per ripulire l'intero territorio della Cambogia perché in effetti la sola tecnica, oggi possibile, è ancora quella dello sminamento manuale. Oggi in 30 paesi del mondo, teatri di recenti conflitti, secondo le stime degli esperti, 100 milioni di mine nascoste nel terreno attendono pazientemente le loro vittime. Una campagna mondiale è stata intrapresa dalle Nazioni Unite per far fronte a questo flagello e per l'interdizione totale delle mine anti-uomo. La Cambogia paga uno dei prezzi più alti con i suoi 10 milioni di ordigni presenti sul suo territorio, oltre a un numero incalcolabile di residuati bellici di ogni tipo che rendono impraticabili vaste zone agricole in un paese già povero e provato da interminabili anni di guerra. Sì, qui ci stiamo preparando a far esplodere degli ordigni bellici. Lo facciamo nella massima sicurezza. Queste bombe granate di vario tipo e molto pericolose, le abbiamo trovate attorno ai villaggi del distretto di Kompulsson, ma le mine qui sono dappertutto. Certo. Ch응 pomoc disper fuera a far esplodere gli occhi. Con un luogo. Saret faceva parte di un gruppo di resistenza all'occupazione vietnamita quando una mina lo ha dilaniato aveva 22 anni e di anni ne ha poi trascorsi 8 nei campi profughi di Cao Ida e Saith Tu sulla frontiera tailandese dove si è sposato e dove sono nati 5 dei suoi 6 figli rientrato in Cambogia con la definitiva chiusura dei campi dopo l'accordo di pace adesso lavora nel programma dei gesuiti per gli invalidi il piccolo salario che riceve gli consente di far vivere la sua numerosa famiglia e di mandare a scuola i figli Sì, ho passato 8 anni nei campi profughi dopo l'incidente mi hanno portato a Saith Tu avrei voluto andarmene in un paese straniero ma questo non è stato possibile per le due gambe che ho perduto mi hanno dato 50 dollari e tutto è finito lì anche mia moglie era nel campo ci siamo sposati e poi sono nati figli è là che ho cominciato a lavorare con i gesuiti che si occupavano dei rifugiati e ho ripreso a collaborare con loro appena rientrato in Cambogia Saret e il giovane missionario spagnolo sono due vecchi amici fin dai tempi del campo di Saith Tu e hanno ripreso a lavorare insieme qui dal 91 la missione gesuita è presente in Cambogia con varie iniziative umanitarie e per rispondere al pressante problema degli invalidi ha creato il centro di Bantiei Prieb la casa della Colomba con una scuola professionale e un'officina che produce sedie a rotelle per consentire a molti mutilati di vivere una vita più degna e di reinserirsi con meno traumi nella società noi pensiamo dice Kike che questa nostra iniziativa possa contribuire a sanare in parte una situazione drammatica tutti i giovani che lavorano e studiano alla scuola sono mutilati e noi vogliamo che tornino a credere in se stessi e nelle loro capacità che vivano la speranza di nuove idee e di nuovi orizzonti di vita Sareth ha iniziato una nuova vita qui a Bantiei Prieb e il suo unico desiderio adesso è quello di fare qualcosa di utile per tanti come lui in tre anni oltre un migliaio di sedie a rotelle sono state prodotte e distribuite in tutto il paese sia direttamente sia attraverso varie organizzazioni non governative come la Croce Rossa Internazionale Cambodia Trust o Handicap International che hanno centri di riabilitazione e di recupero di tecnologia molto semplice realizzate con materiali facilmente reperibili sul posto queste carrozzelle sono essenziali per restituire a molti giovani una vita più degna sono più di 80 ogni anno i giovani invalidi che frequentano i corsi di meccanica elettronica e radioriparazione molti di loro cercano qui di superare anche i traumi psicologici del periodo di Pol Pot e di anni di guerra e di violenza la missione dei gesuiti in Cambogia ha voluto fin dall'inizio occuparsi di cose concrete intende anche aiutare questi studenti che vengono da tutte le regioni del paese a reinserirsi nei loro luoghi di origine a ricostruire la loro vita e a trovare anche la forza di aiutare altri che sono nelle loro stesse condizioni da due anni Kliang Wang insegna al centro quando ho terminato il mio corso sono rimasto per insegnare ad altri studenti e da quando sono qui la mia vita è cambiata ha uno scopo anche io sono mutilato e ho perso una gamba per lo scoppio di una mina adesso vivo con la mia famiglia non lontano da qui e devo dire che sempre mi sono stati vicini mia madre e le mie sorelle da poco mi sono sposato e viviamo tutti insieme spero di avere dei bambini e vorrei che loro non vedessero mai quello che noi abbiamo visto che la Cambogia possa finalmente vivere in pace ho imparato molto da persone come Kike ho imparato che ci si può aiutare l'un l'altro e si può essere tutti fratelli che ci si può aiutare l'un l'altro